Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai, vedrai. Ma tu sai quanti anni ci sono serviti per costruire la reputazione di questo posto? Tutto a posto, Marina. Non può finire così via? Non so dirti come quando... Giove non sono un uomo della mia famiglia. Guardami un attimo. Ehi. So tutto. E te non siamo più niente.